Stiamo vivendo in un periodo in cui sembra che la cultura, la preparazione non serva a niente, sembra che sia più importante l'improvvisazione, però i nostri amici sardi la sapevano lunga e allora nei loro proverbi si trova questa breve frase, nessuno è nato istruito, capito? Tutti voi che credete di essere nati imparati e non avete alle spalle nessun tipo di preparazione? Dice un proverbio sardo che nessuno è nato istruito.